Lo vedete alle mie spalle, la funivia, la seggiovia storica del Ceno è ferma e rischia di rimanere ferma per mesi, forse anche per anni. C'è aria di smantellamento sull'altopiano del Ceno, altro che divorzio consensuale. Lo sfratto disposto dal comune di Bagnoli-Irpino nei confronti della società Giannoni, che dagli anni 70 gestisce gli impianti e le aree ottenute in concessione, non sarà indolore. Gli impianti sono fermi, così come è ferma sembra essere ogni forma di attività legata alle discipline sportive e ricreative. Un'atmosfera surreale come mai sul Ceno, preso sempre d'assalto dal turismo mordi e fuggi e soprattutto da quello legato ai picnic fuori porta del fine settimana. La data dell'ultima salita delle storiche seggiovie che portano in vetta fino ai 1700 metri del Raya Magra è quella del 27 maggio. Ma alcuni addetti della società Giannoni ci hanno confidato, non nascondendo la loro rabbia, che probabilmente quella data sarà anticipata. Alla base della querelle col comune, una situazione pendente da decenni, un matrimonio mai realmente sereno, fatto di separazioni, accordi transattivi, ricorsi altari al Consiglio di Stato, finanziamenti perduti. Ora l'out-out del comune, che ritiene, così come richiesto dalla regione Campania, necessario per poter accedere ai finanziamenti previsti dal progetto pilota, avere la disponibilità degli stessi e delle aree su cui insistono. Il sindaco Filippo Nigro ha provato ad intavolare un confronto con la società, che però ha disertato l'incontro fissato dal primo cittadino. Una situazione ingarbugliata, senza manutenzione e collaudo, le seggiovie resteranno ferme, ci vogliono 900 mila euro che il comune non ha. Ecco il turismo del futuro, quello che porterà sviluppo in Irpinia, una vicenda che la dice lunga sulle reali intenzioni di rilanciare una provincia capace di buttare all'aria anche quel poco che ha.